La Fiera Antiquaria di Arezzo spegne 54 candeline, un importante anniversario celebrato con un'edizione speciale della Mostra Mercato. È infatti dal 1968 che ogni primo fine settimana del mese centinaia di espositori animano piazza grande le vie del centro storico cittadino. Quattro così gli eventi collaterali in programma per il weekend del 4 e 5 giugno. Si parte con Antiquaria Street Art, un evento promosso dall'associazione La Staffetta che porterà in città 5 maestri della street art che realizzeranno su grandi pannelli opere a tema Fiera Antiquaria. Arriva poi anche la compagnia Boritov, il grande lupo bulgaro, con i suoi artisti di strada che animeranno il centro storico a retino con spettacoli itineranti di marionette e circensi sul tema della meraviglia. Al circolo artistico poi in programma l'assa di antiquariato organizzata dalla casa d'aste Guido Riccio. Ed infine tornano per la sesta edizione i Dandy Day, il raduno dedicato alla bellezza e allo stile. Esperti di costume, giornalisti e volti noti della tv ed influencer porteranno il proprio tocco esclusivo tra le vie del centro storico. E come di consueto la manifestazione avrà anche uno scopo benefico, attraverso le iniziative proposte si raccoglieranno fondi che verranno donati all'istituto Casa Teberin per l'acquisto di un nuovo pulmino.